Primo piano, spettacolo. Ai due film veneziani dedicati alla guerra in Iraq di Brian De Palma e Paul Haggis, La Festa di Roma risponde con Lions for Lamps, film fuori concorso con Castellare e con tanto di ritorno alla regia di Robert Redford, prodotto dalla renata United Artists di Tom Cruise e Paula Wagner associata con MGM. Il film tratta della guerra in Iraq e in Afghanistan per denunciare la politica guerra fondai a USA, a dare supporto al politicamente impegnato Redford, la sceneggiatura di Matthew Michael Karnan, che mette in campo storie che inevitabilmente alla fine si incrociano. Filo conduttore del film, due studenti interpretati da Derek Luke e Michael Pena che, affascinati dall'insegnamento del loro professore idealista, uno splendido Robert Redford, decidono di arruolarsi per andare in Afghanistan, una decisione che il professore non apprezza poi molto e che lo spinge a cercare di impedire a un terzo compagno, Andrew Garfield, di prendere la stessa decisione. Il destino di tutti sarà segnato dalle rivelazioni che un senatore candidato alla presidenza, Tom Cruise, farà alla rampantissima reporter televisiva Meryl Streep.